Un piano alternativo per recuperare nuovi posti a basso costo in strutture esistenti o non ancora aperte. Così il Movimento 5 Stelle risponde all'appello lanciato da Giorgio Napolitano per un'amnistia, un indulto, che affrontino il drammatico sovraffollamento delle nostre carceri. Un piano, sottolineano, presentato già il 5 agosto e non preso in considerazione da nessuno. La cosa che ci lascia un po' sorpresi è che il presidente Napolitano non era informato di questo. Quindi crediamo che le affermazioni fatte da parte del presidente per il Movimento 5 Stelle siano esclusivamente un problema di disinformazione. Il Movimento 5 Stelle è attento a quelli che sono i problemi dei cittadini, molto, è il nostro unico compito.